Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati in ritardo. Tempo reale venerdì 29 novembre. Salutiamo anche questo mese perché noi domani non ci saremo e ci ritroveremo nel mese natalizio per eccellenza. Concordo. E nella corso della prossima settimana nascerà qua vicino a noi anche un albero. Sì, adesso l'otto dicembre lo facciamo l'albero. Lo facciamo. Che è domenica. Mi piace l'uso del plurale? Sì, sì, uso sempre il plurale, però personale. Cioè il noi, nel senso che io mi sento partecipe nell'elemento ideativo. Me lo dicono sempre a casa che questo uso, questo noi partecipativo dicendo ad altri di fare qualcosa. Bene, buongiorno. Forse anche qualcuno a casa lo fa. Adesso chiedo se effettivamente il noi, quando benissimo si sa che personalmente non si partecipi, lo si utilizza nelle vostre conversazioni. Buongiorno, caro Andrea. Anche questa mattina siamo on air. Mi piace questa scritta nuova. Adesso faremo una foto e la faremo vedere anche ai nostri ascoltatori e amici di Facebook. Allora, se volete stare con noi in questo venerdì mattina, 337-511-336. Il messaggio Whatsapp su questo numero lo potete utilizzare a mani basse, come si suol dire. Anche a mani in alto. No, se uno è a mani in alto poi dopo diventa difficile anche digitare il messaggio. Oppure la nostra pagina Facebook di tempo reale. Siamo pronti. Hai detto che volevi cominciare. Tu hai tutti i lanci, quindi lascio in... Ce l'hai anche tu i lanci, caro Andrea. Le ho fatte in duplice... Ma non me li hai dati. Ma non li hai presi. Si tiene tutto questa mattina. Arriva, prende i giornali, se li mette alla sua parte. I lanci, se li tiene tutti per sé in duplice copia. Se vuoi fare proprio... Io esco, non è un problema. Ma no, che la trasmissione è la tua, lo sanno tutti. Credo che su questo ci siano delle opinioni contrastanti. Noi adesso andiamo a scuola. Tu vuoi tornare? Tanto il tuo liceo, Andrea. Sì, ma non è più il mio e si è spostato. Si è spostato, però insomma... Tanto oggi è giornata a proposito di scioperi. Sì, è vero. Però vorrei dire, se ci fosse una bacheca degli ex studenti famosi del liceo Serpieri, io sinceramente propongo... Penso che adesso in questo momento la dirigente sclassica... Io ho dei nomi, ma non il mio. ...abbia altri problemi. Di porre quello di Andrea Polazzi. Ma non solo, anche quello di Max Alberici. Certo, praticamente tutta la struttura. Ma non parliamo di questo, parliamo di quello che è successo ieri mattina. Allora i ragazzi, tra l'altro era una notizia che era già stata annunciata, hanno deciso di fare sciopero. Perché fare sciopero? Perché ci sono degli elementi all'interno della scuola, insomma nel diritto di scioperare degli studenti, così come delle categorie dei lavoratori, diciamo che c'erano delle cose che loro non andavano bene. Le regole introdotte dalla nuova dirigente, il tema della sicurezza all'interno della scuola, insomma i ragazzi hanno deciso di fare un'ora di sciopero. Questo è la mattinata di ieri. Tutto si è svolto regolarmente. I ragazzi sono stati all'esterno della scuola, poi alla scoccare, alla campanella della seconda ora sono entrati. Nel nostro tempo c'era l'autogestione. Però è successo qualcosa, è successo qualcosa che ha fatto sì che nel giro di poco tempo a scuola siano arrivati anche i carabinieri. Cosa è successo? Te lo spiega il nostro Lamberto Abbati che insieme a Maurizio Ceccarini ieri ha ricostruito un po' tutta la vicenda. In due? Guarda, non so neanche se sarà finita. Come Sherlock e Watson? Non so se sarà finita perché evidentemente c'è una preoccupazione abbastanza diffusa, anche un certo malessere, forse immagino, sicuramente tra i ragazzi, ma forse anche nel corpo docente. Chissà se ci saranno nuove puntate di questa vicenda, ma noi vi raccontiamo quella di ieri. Una protesta pacifica e molto partecipata. Circa 300 gli studenti fuori dai cancelli del liceo Serpieri nel polo scolastico di Viserba per contestare la gestione della sicurezza scuola, scelte disciplinari da parte della dirigenza e una disorganizzazione per progetti agite che rischierebbero di non partire tra le lamentele più frequenti anche la mancanza di un confronto costruttivo con la dirigenza che avrebbe causato un clima di disagio diffuso. Motivazioni fanno sapere gli studenti condivise anche da diversi professori. È una volta terminato lo sciopero, però, che è stato richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri perché, come spiegano alcuni ragazzi, uno studente di 16 anni era stato accompagnato da due professoressi in presidenza e lì trattenuto per più di un'ora anche oltre la fine dell'orario scolastico. Un confronto reso necessario poiché lo studente aveva letto al megafono fuori dalla scuola il messaggio di una professoressa in una chat scolastica con l'invita a non prendere parte ad uno sciopero che avrebbe danneggiato oltremodo l'immagine dell'istituto, sollecitando altre forme di dialogo. A chiamare le forze dell'ordine poi sarebbe stato un altro professore a riprova del clima tesa all'interno della scuola. Avrei voluto essere avvisata dalla dirigente, ha spiegato la mamma del minore. Un confronto in quei termini non è né costruttivo né educativo. Mio figlio ha semplicemente chiesto di poter chiarirsi con una docente, docente che alla fine ha perso le staffe portandolo dalla preside. Il genitore si è riservato la decisione di sporgere querela per quanto accaduto, altrettanto farà la preside che non ha voluto lasciare dichiarazioni ufficiali ma, fatto sapere, relazionerà dell'accaduto l'ufficio scolastico. E allora, queste sono le vicende a ieri. Chissà questa mattina, magari cercheremo di capire se... Questa mattina è previsto un altro sciopero, però questa volta non degli studenti, ma dei professori. Anche perché sai... Non solo al Serpio. Allora noi abbiamo fatto tutti lo sciopero, al tempo del liceo, al tempo delle scuole superiori. Ma noi c'erano le autogestioni, c'era gente che dormiva a scuola. Io, autogestione, sto a casa. Ecco, vedi. Io ero molto partecipativo, molto sindacalista. Tu il senso proprio esatto della battaglia degli studenti. Posso dirlo, lo so che non porto acqua al mio mulino, ma mi sembravano molte cose un po'... Ma no, ma lo dici adesso che è una certa, dai. A quell'età lì forse le consigliavi valide alcune proteste. Io mi ricordo quando arrivavano gli studenti nelle classi per le elezioni studentesche, erano tutte liste a politiche, a partitiche, che volevano più finire prima la scuola, più merendine nella... No, non esagerare, Andrea. Come svilisci i tuoi coetali? Beh, c'erano i programmi elettorali. Ma no, adesso li vedo molto invece... Adesso li vedo molto più informati. Guarda, sì, credo una parte, quelli che effettivamente si sentono anche di avere... Matteo Monaretto andava a scuola solo quando c'erano le autogestioni. Per il resto veniva qui, infatti. E altre volte non... Mi piaceva di più stare qua che andare a scuola. Lui faceva uno sciopero alternato, cioè... No, vabbè, comunque sto scusato. Quando c'era scuola non andava... Perché poi la cosa è molto seria, in realtà, giustamente, insomma, c'è anche la preoccupazione di questa mamma, che forse sarebbe... La cosa migliore sarebbe stato chiamarle immediatamente questa... Oggi abbiamo tante foto di cibo. Questa mamma. Vabbè, comunque, vedremo come... Se ci saranno delle altre pagine di questa situazione. Ah, credo proprio di sì. Oggi sciopero ancora, questa volta, dei lavoratori. Io mi ricordo che quando andavamo a scuola, e c'erano gli scioperi... E mio, praticamente, soprattutto un professore, che se non andiamo a dire nome e cognome, mi fa... Ma voi non potete scioperare, perché voi non state lavorando. E quindi cosa scioperate a fare? Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, non degli studenti. E vabbè, insomma. Non è proprio così, a mio avviso. Rimanendo di quest'idea, anche dopo trent'anni, quasi, che sono andata al liceo. Noi andiamo avanti, sempre con la cronaca. Qui diciamo... Sì, questa non è cronaca. Giusto perché sono arrivati i carabinieri. Che riguarda le scuole, quindi è importante darle in apertura, come poi hanno fatto anche molti quotidiani. Sì, sì, poi hanno attaccato i cartelli, i ragazzi, insomma. Non deve essere facile il rapporto con questa dirigente scolastica, da quello che ho potuto intendere, tra le righe, neanche solo tra le righe. Puoi continuare con la cronaca o fare qualche saluto? Facciamo i saluti. Facciamo i saluti. Poi dopo passiamo alla cronaca. Diamo il buongiorno. Ad Antonio, che ci saluterà la collina. A Walter, che ci augura un sereno venerdì. A Gianni, a Irene con i suoi caffè, che ci augura anche il buon fine settimana. E poi passiamo... E aggiunge ragazzi, però. ...al numero WhatsApp, dove abbiamo un'altra amica che ci chiama Ragazzi, ed è Rosanna, che ci manda anche delle... Buona giornata, bei ragazzi. Ah, grazie. Ci manda anche questa bella foto che possiamo mostrare di prelibatezze culinarie. Eccola. Buoni questi dolcetti. Eh sì, ma non è l'unica, perché noi avevamo lasciato ieri con la nostra colomba, che aveva festeggiato il compleanno. Dove aveva festeggiato il compleanno. Tu le avevi chiesto... E' vero una tutta cena da lei. Le avevi chiesto delle torte e lei ha detto che erano ancora da infornare, ovviamente a quell'ora. le candeline sono arrivate dopo, però guarda, prima dell'infornatura, non so come si dice, guarda, anche quei cuoricini, questa... Della cottura, Andrea. Della cottura. Infornatura? Bello, però. Però forse cottura è meglio, così che lo capiscono tutti. Neanche il venerdì il mio italiano creativo. Guarda, questo è un'altra. Mamma mia, ma sai che... E poi non c'è solo questo. Penso a figli e nipoti. Mamma, nonna, il tuo compleanno. Perché giustamente si è meritata questi, si è meritata questi bei fiori. bello questo ciclamino, guarda che meravigliosi questi colori. Poi lei adora anche l'aspetto proprio del verde, delle piante, dei fiori, chiedo che sia stato un bello. Grazie Colomba di averci fatto partecipare, anche se indirettamente, al tuo compleanno. E ancora tanti auguri. Andiamo alla cronaca. Qui in realtà la vicenda è abbastanza complessa e anche abbastanza amara, devo dire la verità, perché si parla di una situazione particolare che nasce prevalentemente sui social, no, sui chat di incontri. Chat di incontri. Tinder. No, non dire i nomi con i nomi. Non si può dire. Non so se è quella o no, però le chat di incontri di solito... Che cosa è successo? Come tu mi insegni. Che in queste chat per incontri, non sappiamo quale sia, è successo che tre giovani, diciamo che sono partiti con il desiderio, no, incontriamoci, vediamoci, conosciamoci e alla fine... Ma guarda che capita spero, ma è l'ora che non è il giorno. E alla fine, come è andata? Hanno fatto rapine violente ai danni di alcuni malcapitati che erano stati proprio adescati su queste chat. Nonostante agissero mascherati, gli inquirenti sono riusciti a risalire alle loro identità. E quindi cerchiamo di capire che cosa è successo in questo servizio di Maurizio Ceccarini. Il modus operandi del gruppo, tre giovani italiani, tra i 21 e i 24 anni, prevedeva di attirare le vittime, sempre uomini, attraverso una chat di incontri. Si organizzava un appuntamento in luoghi appartati, in campagna, con uno di loro che faceva da esca e si fingeva interessato ad approfondire la conoscenza del soggetto contattato. La vittima, appena scesa dall'auto per l'incontro, si ritrovava circondata da individui col volto travisato da maschere stile Halloween e veniva picchiata, immobilizzata e legata con fascette di plastica. I rapinatori sottraevano soldi e cellulari alla vittima e con la sua stessa auto la portavano a uno sportello Bancomat nel Riminese dove, dietro ulteriori minacce di violenza, la costringevano a prelevare contanti e a effettuare bonifici sulla loro carta ricaricabile. Poi si dileguavano dopo aver minacciato di morte la vittima se avesse parlato e abbandonandola in stato di shock. Le due rapine che hanno portato agli arresti sono avvenute a Cesenatico e Longiano. I carabinieri di Cesenatico sono risaliti a un'auto ricorrente nei due episodi e da lì hanno individuato poi i tre soggetti arrestati in collaborazione con i carabinieri di Rimini. Il jeep di Forlì ha convalidato gli arresti disponendo per loro in attesa del processo i doni ciliari. Premetto, prima io ho fatto un esempio di un'app però diciamo non è quella perché quasi parla di app sui quotidiani c'è una app di incontri gay quindi insomma evidentemente era un esempio il mio era un esempio perché ti chiamano Andrea e ti vanno e ti dico anche perché vabbè ma non è che diciamo che la responsabilità non è della chat è di chi si agisce come si parla tante volte di facebook le truffe via social ma assolutamente Andrea proprio così nel senso che noi non sappiamo quale sia la chat perché giustamente non è stata detta facevamo un esempio perché ce ne sono tante di chat e di incontri tra l'altro mentre ascoltavamo anche i particolari nel servizio di Maurizio diciamo che tanti oggi utilizzano queste piattaforme e non a chissà quali fini proprio per incontrare perché non è semplice tra adulti ma anche tra ragazzi avere della possibilità di incontrarsi con una persona nel desiderio proprio di stare un po' insieme che da una parte fa anche un po' tristezza non riuscire più a contattare non so anche una ragazza per uscire in un'altra situazione però questo è e quindi insomma in realtà qui c'è un un adescamento che potrebbe essere su mille piattaforme che probabilmente ci sono di questo tipo andiamo a parlare di un'altra cronaca che invece riguarda la trovate anche sul nostro sito si parla di una vicenda che riguarda una donna di 45 anni riminese che ha sporto denuncia nei confronti di un medico estetico sempre del riminese operante nel riminese che l'ha sottoposta ad un trattamento che è un trattamento di fotoringiovanimento basato su luce pulsata però a dire della donna che ha sporto denuncia questo trattamento le avrebbe procurato delle ustioni sul viso e quindi chiede un risarcimento di 75 mila euro guarda lei dice proprio ovviamente il professionista si difende dice che ha operato invece in maniera del tutto regolare in breve tempo la mia faccia si è gonfiata a tal punto non riuscire a tenere gli occhi aperti ero irriconoscibile con questo espessimento e tra l'altro insomma anche lei lavora in ambito estetico tra l'altro ha avuto una prognosi di 40 giorni probabilmente sentendosi bruciare nei punti in cui era stato fatto questo trattamento poi è dovuta anche ricorrere alle cure dei sanitari lei dice addirittura che per un mese non è riuscita a lavorare chiaramente di diverso avviso il medico estetico riminese vedremo insomma come andrà a finire l'accusa nei suoi confronti è quella di lesioni aggravate esatto e poi insomma diciamo che l'uomo cosa dice dice che sarebbe invece stata la 45enne a non aver rispettato le sue indicazioni e terminato il trattamento per dare anche le due posizioni diverse assolutamente e adesso io direi che se è arrivata il contributo dal consiglio comunale di ieri noi adesso andiamo a parlare del teatro novelli ne avevamo parlato un po' all'inizio della settimana perché avevamo trovato questo articolo sulle pagine dei quotidiani dove si diceva che il teatro novelli sarebbe stato al centro del consiglio comunale di ieri sera un ordine del giorno presentato dalla consigliera Gloria Lisi che ha ricevuto risposta da tre esponenti della giunta poi c'è stato tutto il dibattito alla fine l'ordine del giorno è stato bocciato con i voti contrari della maggioranza però arrivano delle novità sono arrivate delle risposte sono arrivate direttamente dal sindaco la prima voce che sentirete dopo di lui l'assessore alla cultura Michele Lari e quello ai lavori pubblici Mattia Morolli che ha dato anche un ordine di grandezza di quanto si dovrebbe o potrebbe spendere per un'eventuale rimessa in sesto del novelli quindi non lo buttiamo giù diciamo ma sentiamo ce lo dice il sindaco ce lo dice il sindaco non rovinare io credo che dopo l'esperienza della candidatura di Rimini a capitale cultura che non era tanto il conseguimento dell'obiettivo in sé ma si è innescato un processo partecipativo molto importante che ci ha fatto capire anche quanto se mai ve ne fosse bisogno quanta fame di cultura in realtà c'è in questa città che certamente non si è saziata con la semplice restituzione a Rimini del teatro Galli che comunque era un obiettivo credo condiviso condiviso da tutti ma io credo che questa amministrazione abbia ben chiara l'idea che il teatro Novelli debba essere considerato il secondo teatro necessario per la nostra città io non ho onestamente non ho mai avuto alcun dubbio in proposito anche perché oltre alla storia del Novelli che è una storia meravigliosa per la nostra Rimini ci sono ragioni che stanno anche nella collocazione del Novelli in quell'area di Marino Centro e nei programmi di sviluppo che abbiamo in quell'area con il Parco del Mare con il Masterplan del cosiddetto triangolone che è in corso di lavorazione e che mi porta a pensare ci porta a pensare che quella zona di Rimini che avrebbe le potenzialità per essere la più viva tutto l'anno in realtà quando arriva a metà settembre abbassa le Saracinesche spegne la luce e una zona meravigliosa in realtà è spenta almeno fino alla Pasqua dell'anno successivo e io credo che la funzione artistica e culturale non possa mancare in quell'area e chi meglio del Novelli può consentirsi di raggiungere quell'obiettivo quindi il Novelli è da sempre un po' il teatro del mare con il nove con ripeto la restituzione del teatro Galli comunque noi abbiamo ben compreso che al Galli non si può pensare di metterci tutto dentro non va neanche bene credo che il Galli debba preservare determinate tipologie di attività culturali al suo interno e in ogni caso anche se volessimo metterci tutto di dentro non avrebbe le caratteristiche per poter ospitare tutto oltre al tema anche di costi perché quella è una realtà che ogni volta che si accende la luce si apre la porta ha davvero dei costi gestionali molto molto importanti pensare al Novelli non vuol dire che gli altri progetti relativi all'edilizia culturale verranno sacrificati quindi il principio per quanto mi riguarda è che a Rimini serve tanto il Novelli quanto la storia il tema è evidente che va oltre questo mandato amministrativo a storie e Novelli questo mi pare evidente e suggestiva la proposta della consigliera Lisi sull'imposta di soggiorno però posso dire una cosa noi potremmo anche decidere di mettere tutti i 13 milioni sul vedo già no aspetta aspetta fammi finire per assurdo diciamo l'imposta di soggiorno la mettiamo tutta sul teatro Novelli un secondo dopo no adesso esagio estremizzo il concetto un secondo dopo noi dovremmo trovare 13 milioni di euro per coprire come dire la manutenzione del verde il TPL manutenzione strade attività culturali turismo evidentemente quindi la coperta è quella noi possiamo tirare la tutta da una parte o dall'altra se li mettiamo lì dobbiamo coprire in altro modo quello è importante che il secondo teatro il teatro Novelli non venga visto come un luogo di serie B rispetto al teatro Galli ma che abbia lo stesso ruolo di motore e culturale e di iniziative di valore per la nostra città questo significa in breve che il teatro dovrà avere un palcoscenico grande senza il quale le richieste in essere e quelle che verranno non potrebbero trovare accoglimento ci vorrà un allestimento scenico che consenta la visione frontale degli spettacoli con un numero di sedute non inferiore alle 500 questo consentirebbe appunto anche alla stagione di prosa di riuscire a riorganizzare il proprio calendario ci vuole una dotazione tecnica adeguata ai più moderni standard teatrali con una flessibilità anche del palco per adattarsi alle diverse esigenze con un numero adeguato di camerini e di sale da utilizzare per prove incontri e masterclass costa tanto metterci mano costa la cifra che è uscita nelle settimane scorse da parte dell'entero cale che ha con Antea su mandato dell'assessorato della cultura piuttosto che il sindaco portato una attentissima disanima di quello che è il costo di metterci mano metterci mano senza l'abbattimento quindi come un dovera comera è un investimento che va a cubare sui 15 milioni di euro ecco diciamo il comera dovera perché poi ci sono varie ipotesi perché ci sarebbe anche la possibilità comera dovera quanto mi fa tornare indietro con il comera dovera c'è anche la possibilità di abbattere ricostruire evidentemente il teatro il sistemare quello che già c'è costerebbe 15 milioni poi l'assessore Marogli ha fatto una serie di esempi dicendo ad esempio la nuova scuola Ferrari con palestre e quant'altro è costata nel 2019 2020 6 milioni e mezzo di euro con i prezzi attuali saremmo intorno ai 9 giusto per fare un termine di paracone costruita ex novo costa meno costruirla che rimetterà a posto una struttura effettivamente ormai probabilmente l'edilizia va così lo sanno anche coloro che risistemano a casa riguardante anche i motori scenici da adeguare l'antisismica anche la modalità di riscaldamento ad esempio adesso ci sono credo degli obblighi che prevedono per strutture di quel tipo il riscaldamento a pavimento ovviamente sono tutti lavori impattanti forse ancora di più per una struttura che già c'è allora io su questo credo che effettivamente ci sia un ragionamento mettiamo da parte il dibattito parcheggio multipiano e via dicendo diciamo che sul teatro si vuole investire evidentemente c'è un tema legato ai costi probabilmente Rimini ma cioè se tu pensi anche al vicino alla vicina cattolica la stagione terratale di cattolica ad esempio si distingue tra gli spettacoli più importanti fatti al teatro della regina e gli spettacoli anche quelli più di avanguardia di teatro indipendente che vengono fatti a Salone Snaporaz che per carità è un cinema poi che è stato anche riqualificato per questa possibilità però probabilmente Rimini che è ancora più grande potrebbe effettivamente vista questa scelta anche di andare su un'offerta culturale ampia avere possibilità di riempire entrambi gli spazi per occasioni diverse per diciamo rappresentazioni di diverso tipo adesso invece andiamo a parlare del metromare caro Andrea ieri te ne sei occupato perché è arrivata una notizia che in qualche modo potrebbe speriamo cambiare le sorti di un impasse che insomma avevamo raccontato in diretta qualche settimana fa perché insomma erano arrivate delle brutte risposte per quello che riguardava la prima ditta che si era aggiudicata al bando per la realizzazione della seconda tratta quella che va dalla stazione di Rimini fino alla fiera se trovate in difficoltà l'azienda purtroppo succede o meglio stando anche ai committenti non ha rispettato una serie di tempistiche per andare a realizzare in tempo l'opera bene ce l'aveva detto Stefano Giannini amministratore unico di PMR che avrebbero lavorato in fretta per trovare una soluzione e forse la soluzione almeno a livello burocratico l'abbiamo trovata sull'infretta vedremo poi come andranno le cose ma sentiamo il servizio dopo la risoluzione del contratto con italiana costruzioni arriva una svolta positiva per la seconda tratta del metromare quella chiamata a collegare la stazione di Rimini con la fiera il consorzio integra di Bologna seconda classificata nella graduatoria dell'appalto integrato ha comunicato formalmente e nei termini assegnati la disponibilità da accettare l'impegno di realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva e quindi l'esecuzione dell'opera PMR ente appaltatore in via d'urgenza già dalla prossima settimana concluse le verifiche formali affiderà l'appalto che inizierà con le attività di progettazione definitiva e quindi esecutiva che richiederà 144 giorni la realizzazione dell'infrastruttura fino alla fiera commenta l'amministratore unico di PMR Stefano Giannini è ritenuta fondamentale per cui nonostante le difficoltà è nostro dovere andare avanti la tratta era stata finanziata dal PNRR con circa 60 milioni di euro e doveva essere ultimata entro il giugno 2026 proprio per non perdere i fondi una data impossibile da rispettare visto che il cantiere se non ci fossero stati problemi con la prima giudicataria si sarebbe dovuto aprire già ad agosto l'auspicio è che possa arrivare ora una proroga dall'Europa visto che in Italia sono molti i progetti che rischiano di sforare i termini c'è però anche un piano B si tratta dei fondi statali per circa 55 milioni che il prolungamento del metromare aveva intercettato nel 2020 prima di far convergere l'intervento verso il PNRR un finanziamento che secondo Giannini si potrebbe comunque riattivare allora questo è il punto a cui si è arrivati ovviamente ci sono quei 144 giorni che insomma la nota non era chiarissima ritengo sia nei 144 giorni necessari alla nuova realtà per predisporre tutta la fase di progettazione compresa quella esecutiva 144 giorni sono circa 5 mesi più o meno quindi vuol dire che se si parte adesso indicativamente dovrebbe essere tutto pronto per la tarda primavera quindi se le cose dovessero andare questa volta bene il cantiere potrebbe aprire a giugno ricordiamo che il cantiere si sarebbe dovuto aprire nel mese di agosto o settembre era stato detto a settembre comunque i tempi ci sono per chiudere poi giugno 2026 io credo che se dovesse aprire effettivamente nella prossima estate i tempi tecnici per chiudere in un anno tutta l'infrastruttura siano difficili da rispettare quindi le partite come detto sono due o dall'Europa si dice visto che il 90% dei progetti è in ritardo per un motivo o per l'altro concediamo una proroga di tot mesi e poi bisogna cercare di rientrare in quella proroga vedendo di quanto sarà oppure capire se è possibile effettivamente come ritiene l'amministratore unico di PMR riattivare quel finanziamento che prima del PNRR il prolungamento del metromare aveva ottenuto e quindi riattivare quel canale che avrebbe portato 55 milioni di euro ricordando che poi adesso la spesa è di 60 quindi ci sono anche questi 5 milioni che forse in qualche modo devono poi rientrare non si sa in che modo ma non sta a noi poi verificare evidentemente gli enti competenti le verifiche le avranno fatte le stanno facendo e poi ci daranno conto allora io vorrei rimanere un attimo sui lavori pubblici io volevo salutare Roberto che ci saluta con un buongiorno in lingua turca adesso ti voglio vai Andrea Guaidin io non so come si qual è la pronuncia però può essere io di turco non me ne non me ne intendo eh vabbè bisognerebbe grazie Roberto è bello fare questo viaggio insieme a Roberto per il mondo ogni mattina con i suoi con i suoi saluti che chiaramente noi non sappiamo quindi se c'è qualche amico turco in ascolto magari ci aiuti mandandoci un audio messaggio sulla giusta pronuncia di questo di questo buongiorno e dicevo vorrei rimanere un attimo nei lavori pubblici uno per darvi dentro 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 i lavori pubblici uno per darvi un piccolo aggiornamento sulla piscina di Viserba anche su questo io so cose che tu non sai quanto si è discusso e adesso invece praticamente dopo tante discussioni dopo un cantiere mediamente lungo in realtà è stato anche un cantiere abbastanza rapido il cantiere è nei tempi esatto lo dico perché tu forse non lo sai perché non segui non ti informi ma ieri c'è stata un'interrogazione in consiglio comunale anche questo del consigliere Brunori sempre della lista Lisi a cui ha risposto l'assessore ai lavori pubblici ma è anche un frequentatore anche dell'attuale piscina a cui ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli noi abbiamo anche una foto dello stato di fatto della piscina è stato dell'arte dove è stata montata nei giorni scorsi la vetrata quindi c'è già un interno ci sono già delle vasche l'assessore ha detto che dovrebbero essere ultimati gli interventi strutturali quindi la piscina per il giugno del 2025 con la possibilità eventualmente di poterla aprire al pubblico già per l'avvio della stagione nuova quindi quella del settembre ovviamente bisognerà concordare anche l'avvio di questa attività con le associazioni sportive che attualmente operano nella attuale piscina comunale e che poi si dovranno trasferire ma ovviamente il trasferimento non può avvenire a stagione in corso quindi bisognerà capire se effettivamente a giugno operativa si potrebbe partire a settembre se invece c'è qualche ritardo ovviamente la situazione potrebbe slittare il consigliere Brunori ha chiesto anche conto del futuro invece dell'attuale piscina comunale quella che si trova accanto al Flaminio diciamo che ancora non viene inglobata nel nuovo stadio nella risposta non ci sono state in sostanza risposte perché diciamo che non ci sono state risposte no perché diciamo che io ho ascoltato l'assessore ma di fatto non ha chiesto perché Brunori diceva cosa si farà di quella struttura resterà lì decadente la vedremo con i vetri rotti con gente che ci entra dentro o si pensa magari di lui ha fatto delle ipotesi trasformarla in una palestra visto che ci sono già anche gli spogliatoi magari una palestra anche splittata in due oppure dedicarla alla scherma che attualmente è all'interno del Flaminio diciamo che l'assessore non si è sbilanciato da questo punto di vista perché ha detto che poi a gennaio ci saranno degli interventi ordinari di manutenzione che serviranno anche per capire lo stato di fatto dell'immobile e poi da lì in avanti capire si faranno delle considerazioni anche per il suo futuro sì sicuramente visto lì quanto sport ci sarà di più a qualche anno per chiudere la pagina piscina comunale che ricordiamo sorgerà a riserva nel parco Donbello dove partiranno anche gli interventi di insomma sul parco stesso che lo stesso assessore ha detto diventerà il più grande parco inclusivo dell'Emilia Romagna questo ha detto e per quanto riguarda chieste rassicurazioni sui costi vale a dire le associazioni che utilizzano la piscina comunale ovviamente hanno delle convenzioni col comune determinate affittando in sostanza certe corsie a determinati costi ecco Brunori ha detto che c'è il timore da parte di queste associazioni che questi costi poi possano lievitare quindi ha chiesto anche all'amministrazione di essere attenta da questo punto di vista ovviamente il resto delle corsie e della struttura sarà affidata ad un gestore privato si sta lavorando al bando per definire chi gestirà la piscina a 360 gradi perché diciamo che per rientrare delle spese ovviamente non si gestirà solo la piscina ma sarà un unico soggetto a gestire anche bar e shop quindi al negozio che sarà interno alla struttura al volo perché in qualche modo infatti sei stato bravo perché ieri Andrea era qua e si ascoltava il consiglio comunale le sue due grandi passioni sono le partite di tennis o il consiglio comunale quindi insomma effettivamente anche guarda che Giorgio ci saluta dalla fila per entrare all'isola ecologica c'è una fila addirittura quante persone hanno da smaltire oggi è shop però forse c'è meno gente anche all'interno allora a proposito di consiglio comunale c'è stata un'interrogazione del consigliere Renzi su Start su Start e lui sapevo anche questo guarda io dico sì perché lo stavi ascoltando ieri quando eravamo lì insieme ma non sono arrivate grandi novità io leggo solo un titolo questa mattina sulle pagine del Corriere che non so quanti utilizzano il trasporto pubblico siano così fiduciosi su questa su questa idea che ha avuto Renzi stipendi da aumentare con le multe sui bus sì questa è una delle sue proposte diciamo gli ha risposto l'assessora Frisoni dicendo che insomma probabilmente non è questa i stipendi ovviamente vanno aumentati perché sono evidentemente molto esigui e sono una delle cause che allontanano anche dal lavoro di autista molte persone però ha detto probabilmente anche guardando l'ammontare di quanto si ricava dalle multe nonostante poi ci sia previsto anche un ampliamento dei controlli non solo affidati ad aziende esterne ma start da alcuni giorni come ha suggerito tra l'altro qualche tempo fa dallo stesso Renzi sta utilizzando anche del personale interno per i controlli sui bus diciamo non servirebbero a ampliare il di tanto insomma lo stipendio quello che si ricava dalle multe poi Renzi aveva anche proposto l'utilizzo di tornelli almeno per quanto riguarda le linee mare tipo il metromare mi tornelli penso tipo metropolitana che tu devi avere il biglietto per passare l'assessore ha detto che era una cosa che si era valutata quando il servizio è partito però si è ritenuto che questo avrebbe limitato la fruizione anche la velocità di fruizione del servizio e quindi è un'ipotesi che poi è stata scartata vedendo quanti vanno sul metromare senza pagare io forse un pensierino ce lo farei non so però non lo so effettivamente l'ideale sarebbe che tutti potessero pagare come succede in tante altre città europee quando entri sul mezzo addirittura in alcune città passi dal dove c'è anche l'autista che vede esattamente se tu paghi quando entri a costo di aspettare 30 secondi che tutti abbiano pagato quindi la fila per entrare non lo so io non so quale sia la scelta migliore a proposito prima parlando di metromare ma in realtà un sondaggio di AMR velocissimo perché sono stati presentati i dati su questa analisi che è stata effettuata a luglio nel mese di luglio facendo un sondaggio tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico e ieri questo diciamo questo sondaggio è stato presentato a Riccione e risulta che tutto sommato i passeggeri sono soddisfatti anche se i servizi risultano ancora carenti vi diamo giusto una frase andiamo per comparti stagni noi abbiamo la parte cronaca poi la parte consiglio comunale torno un attimo sui lavori pubblici anche qui una notizia flash ti piacciono tanto tu hai un futuro da umarello esatto e lo leggo infatti me lo sto preparando come si suol dire hai la mappa dei cantieri presentate come nei film quando ci sono quelli che indagano sugli omicidi hanno nella parete tutti i fili che collegano tu hai i fili che collegano i cantieri dico alle amministrazioni comunali non fare tutte le grandi opere adesso ma mi serviranno fra un po' di anni ti preoccupare che le cose da fare se ci arrivo ci vuole un po' di tempo poi si vuole calcolare anche il tempo che ci vuole andare da un cantiere all'altro è vero soprattutto ad una certa età lì i lavori è un po' latita lei si sposta esatto però penso che prima di arrivarci alla pensione se mai ci arriverò ancora mi servono un po' di anni puoi prendere un monopattino ah beh già non si possono più usare da nessuna parte sottopasso via principe amedeo siamo in zona stazione in zona grattacielo diciamo che lì perché aia ma lì c'è da fare quello lì va qualificato fondamentale va soprattutto messo in sicurezza io capisco adesso c'è il lavoro che si concentra da parte di RFI delle ferrovie su insomma le rampe che devono essere accessibili a tutti quindi stop alle barriere architettoniche anche il grande problema della promiscuità del passaggio biciclette pedoni lì si potrà passare solo con le bici a mano questo appunto è il futuro di quell'area ovviamente siamo nel periodo topico cioè nel periodo in cui ci potrebbero essere dei disagi perché dal 2 dicembre fino a metà aprile sarà chiuso completamente quel sottopasso esatto e quindi anche il collegamento deve fare tutto un bel giro esatto collegamento specie per i pedoni tra la zona stazione borgomarina e la zona mare diventa un pochino più complicato e chissà che la decisione di non c'entra niente che mi è venuta in mente adesso non realizzare spettacoli per il capodanno in zona mare ma concentrarli tutti in città però tu ci pensi cioè nel senso che la marea di persone che dal concerto di piazzale Fellini si spostava in centro che non usava sottopasso secondo me io invece credo di sì guarda io penso che tutti andassero in strada io non sono mai visto ma quando c'è tanta gente andare nei sottopassi almeno a me è capitato a qualche concerto quando c'è la fiumana di gente tu i sottopassi cerchi di evitarli il più possibile perché rischi di rimanere quasi intubato in un piccolo posto perché evidentemente tra scale di discesa sottopasso che piccolino è risalita al sottopasso quando c'è tanta gente non lo so preferisco almeno penso che le persone preferiscano la strada sul tema trasporto pubblico c'è Roberto che richiama evidentemente il portoghese per eccellenza che è il famoso Aiei e Brazzo di Aldo anche questa cosa del portoghese sai che se tu dili il portoghese non sono fatto con te però da noi si chiamano così però c'è tutta una storia legata a questo oggi non posso dire niente tutti dicono portoghese non si può dire portoghese perché c'è qualche amico portoghese che potrebbe dire che non è giusto se uno dice furbetti non va bene furbetti esatto alla fine dammi un elenco delle parole da non utilizzare e cerco dei sinonimi sai che a me non piacciono troppo i luoghi comuni e quindi no ma il portoghese era semplicemente per gli amici portoghese ma con tutto il rispetto amici portoghese ma sai quanto si dirà degli italiani in giro per il mondo sì sì però insomma effettivamente l'esempio è lampante l'esempio è fantastico quello che si dà Roberto in ogni caso c'è Giorgio che dice secondo me la fila l'isola ecologica c'è per colpa degli scioperi sono tutti a casa a sgomrare tutto può essere tra l'altro fateci sapere se stamattina state trovando difficoltà perché sono scioperi generali importanti scioperi non sa che poi ci sia stata la precettazione che ha ridotto il numero di ore a 4 se non sbaglio anche per i trasporti pubblici c'è anche una manifestazione credo a Bologna per quanto riguarda il nostro territorio con dei pullman dei sindacati che partivano anche da Rimini quindi insomma qualcuno sarà in viaggio sarà già arrivato nel capoluogo per manifestare la sua contrarietà alle scelte del governo che per suo conto dice da quando ci siamo insediati ci sono stati praticamente più di uno sciopero al giorno bisogna farsi delle domande non lo so è difficile trovare in questo momento effettivamente un accordo possibile molto molto complicato noi lasciamo anzi visto che parlavamo di lavori pubblici velocemente vorrei dire che nella mia riccione ci saranno max interventi sui sottopassi per evitare gli allagamenti in particolare si lavorerà su Viale La Spezia dove sono già stati fatti degli interventi diciamo di bonifica per cercare di migliorare la situazione sappiamo che disastro abbia provocato quel sottopasso in giornate complicate con persone che sono state recuperate rischiando veramente di rimanere sott'acqua nelle loro abitazioni abitazioni distrutte parte di questo con tutti gli arreddi via dicendo e comunque per questa sistemazione di sottopassi a Riccione si stanziano circa 2 milioni di euro e quindi mentre nella zona del centro di Riccione non arrivano i pilomat se non dopo le feste di Natale allora a Riccione ieri c'è stato un consiglio comunale che noi proporremo questa sera quindi avrete già anche l'occasione di capire un seconda serata ma molta seconda serata sì perché c'è i giorni della chiesa poi c'è il film poi c'è il consiglio comunale esatto proprio così quindi una bella serata ricca ricca su Icaro TV vabbè tanto dopo i giorni della chiesa va tutto incalando no no dopo le trasmissioni condotte da Simona Mulazzani c'è il baratro no perché alla fine dopo se abbiamo tempo ti dico anche di che cosa parliamo questa sera nei giorni della chiesa posso chiedere al direttore di cosa parla nelle sue trasmissioni posso dirti però che con questo prossimo servizio andiamo a Bologna ma in realtà per un regionale esatto per un progetto che riguarda tutta la regione in particolare 14 comuni abbiamo un inviato un inviato fisso a Bologna abbiamo un inviato fisso ci teneva tantissimo a tornare chissà se ci sta ascoltando se vanno alla barra sta facendo un riposito dopo la sveglia delle quattro secondo me gli hanno messo anche un lettino lì in zona regione in Emilia Romagna c'è una vacanza per me questo è il titolo del progetto dedicato al turismo accessibile quindi rivolto a persone con disabilità motorie non solo che ha coinvolto numerosi comuni della riviera romagnola il cui bilancio è stato tracciato proprio ieri a Bologna nella sede della regione presente anche Paolo Cievoli a portare un tocco di Romagna è più che un tocco di Romagna sentiamo il servizio perché su Paolo Cievoli forse qualcuno l'ha sentito ultimamente facendo benzina al distributore con l'inaugurazione del sito web collegato al portale Emilia Romagna turismo si conclude il progetto regionale sperimentale di turismo accessibile in Emilia Romagna c'è una vacanza per me che ha visto il coinvolgimento di 14 comuni della riviera romagnola dai lì di Dicomacchio a Cattolica e finanziato per 1,6 milioni di euro dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità in nove di questi comuni partner del progetto sono state realizzate numerose iniziative tra le quali accessi attrezzati adattamento di luoghi di interesse paesaggistico e allestimento di strutture ludiche e sportive inclusive oltre a una massiccia campagna web che ha avuto come testimonial l'influencer Giulia Lamarca e un romagnolo doc come Paolo Cevoli testimonial della regione Emilia Romagna il lancio del sito web ufficiale ha l'obiettivo di offrire le informazioni fondamentali al turista con disabilità o altre necessità fornite da diverse realtà della riviera come strutture ricettive campeggi e villaggi turistici ma anche musei ristoranti e stabilimenti balneari le azioni sono tantissime da una strutturazione del progetto da ulteriore formazione da ulteriori attività con i comuni che in questo caso non si non si fermeranno solo alla riviera romagnola ma la romagna ma il progetto diventerà un progetto regionale quindi da Piacenza a Cattolica tutti gli operatori saranno coinvolti in questo importante sviluppo devo dire che noi partiamo avvantaggiati perché abbiamo una natura che ci porta a essere ospitali così perché io perché sono figlio di albergatori piccolo albergatore devo dire ce l'ho proprio nel sangue ma tutta la nostra terra è calda è accogliente è affettuosa e si tratta anche naturalmente di adeguare le strutture così come questo progetto sta facendo a modernare e rendere accessibile e accogliente veramente per tutti te ne sei occupato se mi passi la battuta anche da assessore o solo da testimonial? no io la faccio all'assessore per finta l'assessore lo devono fare altri io faccio il patac però voglio fare il patac bene serve non è che è così facile è importante molto simpatica la battuta su domanda del nostro Stefano a Paolo Cevoli poi so che Paolo Cevoli ha chiesto a Stefano di fare una foto insieme è vero si ci teneva ci teneva Paolo Cevoli a fare una foto insieme al nostro Stefano d'altra parte comunque lo diciamo Paolo Cevoli è il presidente De Pascale alla ricerca dei nuovi assessori per la sua giunta regionale in effetti si è la candidatura autorevole io sinceramente guarda un assessorato alle pataccate buone quelle che spesso sostiene Paolo Cevoli potrebbe essere utile perché adesso noi ci scherziamo insomma lui giustamente dice no io faccio il patac però devo dire che Paolo negli ultimi anni proprio con questa sensibilità particolare che ha su alcune tematiche ha portato questa leggerezza romagnola però a trattare temi grandi e questo dell'accessibilità anche con un turismo perché io credo questo se l'Emilia Romagna in particolare la sua riviera vuole davvero fare scuola sul turismo non più solo e forse anzi lì facciamo un po' più fatica con strutture super mega galattiche che ne so che sono tutte con la domotica anche va bene ma io penso che ciò che ci caratterizza e che non può essere se non nostro è questa accoglienza romagnola perché poi ci sono le accoglienze di tutti i posti però su alcune cose dobbiamo essere all'avanguardia l'accessibilità far sì che i luoghi siano per tutti io credo che questo ci possa distinguere va bene dopo questa mia considerazione sulle note di Paolo Cevoli dicevamo probabilmente molti di voi sono andati a fare benzina in questi giorni e hanno avuto le indicazioni su come comportarsi proprio da Paolo Cevoli devo dire che questa azienda petrolifera ha avuto una buona idea cioè almeno penso sia solo qui in Romagna non lo so in Emilia Romagna non so vai a fare benzina fuori vai in Toscano nelle mare non so se sono vabbè comunque allora io non mi ricordo bene se ho preso tutto questo che tu hai stampato vabbè allora di tu quello che sai io sono certo che di infortuni muscolari possiamo parlare allora parliamo di infortuni muscolari ed è una cosa a cui io tengo entriamo nel tema sanitario essendo avendone un elenco importante di infortuni perché tu hai sai che hai dei muscoli io ad esempio alle volte quelle poche erano io apprendo di avere dei muscoli nel momento in cui si fanno del male no soprattutto alle volte quando fanno male io non faccio niente ma lì c'è un muscolo ma perché sento questo dolore non sapevo neanche ci fosse perché era lì atrofizzato che si faceva le sue cose da tempo e poi tu magari lo utilizzi e lui dice oh lo stressi un attimo e mi si arrabbia sono anni che non faccio niente allora gli infortuni muscolari in particolare senti la prevenzione la diagnosi e la riabilitazione è stato al centro di tutta salute di ieri sera di Lucia che è una grandissima sportiva poi certo con lei però c'era anche il direttore di isokinetic Roberto Acquaviva e il dottore Jacopo Gamberini che è un fisiatri direttore sanitario proprio del centro isokinetic e allora la nostra Lucia ha provato così un po' ad interrogarli da appassionata di sport e quindi anche attenta alla sua muscolatura su alcune tematiche sentiamo un po' uno stralcio della trasmissione che poi come sempre trovate sui caroplei un meccanismo da trauma diretto tipico degli sport ad esempio di contatto come può essere il calcio il rugby il basket la palacanestro insomma e un trauma da tipo un infortunio da trauma indiretto che sono presenti sia negli sport di contatto ma anche negli sport individuali come può essere ad esempio l'atletica leggera o come dicevi tu il tennis e il paddle che oggi va molto di moda i muscoli che sono più colpiti sono quei muscoli lunghi quei muscoli che gestiscono più articolazione vengono chiamati muscoli biarticolari l'età sicuramente è un fattore di rischio molto importante un fattore di rischio purtroppo non modificabile purtroppo no che diciamo è sicuramente un fattore predisponente a un infortunio strutturale da trauma indiretto soprattutto dopo i 40 anni oggi ci sono diversi modi per far prevenzione sicuramente un aspetto importante è questo programma di riscaldamento un programma creato dalla FIFA che prende il nome di FIFA 11 Plus una quindicina di esercizi della durata di una ventina di minuti dove ci sono esercitazioni di corsa esercitazioni di agilità ed esercitazioni di forza questo è un programma tra l'altro si trova anche facilmente online che ha qualche anno ma ci sono degli studi molto interessanti sulla riduzione degli infortuni e viene molto utilizzato a livello amatoriale le lesioni non strutturali sono come una crepa nel muro diciamo così noi abbiamo quasi non la vediamo molte volte anche a livello di indagini strumentali invece le lesioni strutturali abbiamo quel muro che sta cedendo quel muro ha ceduto quel muro dobbiamo ripristinarlo consiglio a tutti i pazienti da crampi muscolari delle gambe ma anche a volte nella schiena nel collo di effettuare stretching a casa la sera quando si torna dall'ufficio o la mattina prima di partire allungare la muscolatura che in realtà sempre di più stiamo adattando a una postura che in realtà il nostro corpo non vorrebbe è ideale quindi esercizi di stretching possono essere sicuramente preventivi adeguati idratazione dei sali minerali e poi chiaramente per chi può ed è raccomandato attività sportiva preventiva per rinforzare le strutture muscolari hai capito Simona preventiva non è che mi vai a giocare a pallavolo così che bello che bello e poi il giorno dopo sei tutta però io leggevo ieri che se tu fai un'attività intensa bastano 75 minuti alla settimana se la fai in media un po' blanda diciamo vai a camminare veloce non corri oppure non fai attività molto significative ce ne saranno 150 ci sei no? sicuramente trovarli 150 minuti salire e scendere dallo sgabello non è attività intensa esatto salire e scendere dallo scooter anche allora guarda Andrea in realtà adesso continuiamo a parlare di salità ma ci facciamo anche un po' più seri c'è una ricorrenza importante c'è una ricorrenza importante era il giugno del 1974 ci fu l'inaugurazione con la visita anche delle autorità guidata dall'allora sindaco Nicola Pagliarani di che cosa? dell'ospedale infermi di Rimini che proprio in questo 2024 compie 50 anni e domenica al teatro Galli domenica mattina ci sarà un momento celebrativo commemorativo dove si racconterà la storia ma si guarderà anche al presente e al futuro della sanità e allora noi per parlare di questo momento così importante vogliamo parlarne in diretta con Francesca Raggi che è il direttore medico del presidio ospedaliero di Rimini che comprende anche quello di Sant'Arcangelo e Nova Feltria buongiorno Francesca buongiorno a voi all'antivigilia di un appuntamento importante per tutto il territorio perché domenica sarà chiaramente una giornata per gli operatori sanitari ma per tutta la cittadinanza per celebrare questi 50 anni importanti sì abbiamo deciso di fare una festa per riflettere sul passato ma anche sul futuro e condividere esperienze e testimonianze di professionisti donne e uomini che hanno fatto crescere il nostro ospedale c'è il desiderio di portare le storie anche delle persone Francesca e chiaramente anche capire che evoluzione c'è stata perché chiaramente in questi 50 anni c'è stata un'evoluzione dell'ospedale all'interno di un'evoluzione anche del sistema sanitario sì all'interno del sistema sanitario ma anche di Rimini il motto di queste celebrazioni è una comunità che si prende cura e l'idea è proprio quella che l'ospedale sia una comunità all'interno della comunità più vasta della città di Rimini che è cresciuta parallelamente anche Rimini come città sta costruendo relazioni e luoghi che rendono che migliorano la qualità della vita appunto nella nostra città quindi l'ospedale rappresenta comunque sempre un simbolo per l'ambiente in cui si inserisce e rappresenta anche un luogo dove si trovano soluzioni risposte a bisogni di salute per cui volevamo proprio dare una restituzione alla cittadinanza tutta e condividere insieme questo momento molto emozionante anche perché Francesca diciamo che forse ognuno di noi nei confronti dell'ospedale ha un rapporto ambivalente cioè nel senso una parte vorrebbe non averne mai bisogno perché vuol dire che si sta bene però in fondo in ospedale nascono anche i bimbi e all'ospedale inferno ne sono nati tanti quindi sono anche momenti gioiosi e poi anche rispetto a quando invece abbiamo bisogno di cure e succede a tutti avere invece un ospedale di riferimento importante è bello sapere di avere un ospedale che funziona vicino esatto proprio così Francesca questo forse credo sia un po' il pensiero di tutti che in questo momento la stanno ascoltando sono molto contenta di questo tra l'altro io sono arrivata da poco però chi ha vissuto negli anni precedenti mi racconta che questo ospedale è cresciuto e diventato grande nel corso del tempo quindi c'è stato un periodo anni 80 90 in cui le donne non volevano partorire in questo ospedale perché era considerato un po' l'ospedale dei turisti adesso invece ha acquisito come dire anche un ruolo di primo piano come centro di riferimento proprio del punto nascita e abbiamo insomma un'eccellenza in ambito materno infantile questo ci rende molto orgogliosi e tendiamo tutti i giorni verso l'eccellenza c'è tanto da raccontare Francesca inevitabilmente un po' saranno trattati nel corso della mattinata che avrà anche dei momenti molto emozionanti con alcune storie di persone che questi 50 anni li hanno vissuti praticamente tutti anche proprio da operatori sanitari all'interno dell'ospedale evidentemente ci sarà anche un passaggio e qui è importante proprio il tema della comunità su quello che sono le sfide oggi della sanità a partire proprio dai presidi ospedalieri anche questo va trattato perché come si dice quando si hanno radici robuste forse pur nella fatica del momento si può guardare con un po' di speranza in più anche al presente e al futuro sì cercheremo di buttare insieme il cuore oltre l'ostacolo di raccogliere un po' anche tutte le suggestioni che abbiamo condiviso con i direttori di dipartimento nelle settimane passate per preparare questo intervento e sicuramente le traiettorie per il futuro riguarderanno non soltanto l'innovazione tecnologica insomma la centralizzazione di alcuni servizi che richiedono alte competenze ma anche una profonda integrazione con il territorio e si parla in questa fase storica di ospedale liquido perché sempre di più va verso il domicilio del paziente e anzi anche dentro casa tante volte in questa fase riusciamo a fare cure in casa dei pazienti che in passato non ci immaginavamo neanche ma è importante così perché meno spostiamo le persone che hanno bisogno meglio è anche perché Francesca questo è sicuramente il tema grande dell'oggi di fronte a quelle che poi spesso anche noi giornalisti siamo lì a raccontare le criticità di alcuni in particolare presidi ospedalieri pensiamo al pronto soccorso con tutte le emergenze che vengono spesso raccontate poi in realtà una volta che si entra nei reparti si vede anche un altro volto della sanità di questo tema della cura molto forte è chiaro che quello che si sta facendo non so se la sperimentazione effettivamente andrà come è stata nelle aspettative se ci saranno bisogno di cambiare però questa idea che sempre di più non ci sia solo un luogo dove andare a farsi curare ma noi possiamo essere curati in modo preventivo e quando c'è la possibilità nelle nostre abitazioni forse però è un cambiamento culturale importante credo non siamo così pronti forse perché se ci sentiamo male noi andiamo corriamo subito al pronto soccorso perché abbiamo bisogno anche di sentirci rassicurati forse ma sì perché siamo cresciuti con l'idea che appunto l'ospedale sia la sede delle cure e non siamo così sicuri in casa nostra che ci siano sempre tutte le condizioni in realtà oggigiorno la telemedicina l'intelligenza artificiale e la tecnologia che sta dando un grandissimo supporto che non vuole allontanare l'umanità del medico dal paziente ma anzi lo vuole avvicinare anche quando sono distanti per cui la sfida appunto come diceva prima lei di questo periodo è la cronicità è la fragilità in una fase in cui stiamo diventando sempre più tutti quanti più vecchi e avremo sempre di più delle famiglie composte da un unico componente per cui anche l'assistenza e la cura dovrà necessariamente evolvere contiamo appunto sulla comunità quindi il senso di appartenenza lo stare vicini condividere insieme i valori credo che sia fondamentale anche per il benessere e la salute di tutti e probabilmente l'appuntamento di domenica va proprio in questo senso perché effettivamente ed è giusto che sia così è stato pensato anche per gli operatori della sanità dell'ospedale infermio ma di tutta la sanità riminese ma poi il desiderio anche suo Francesco è stato quello di aprirlo alla cittadinanza proprio per questo senso di comunità che si vorrebbe far percepire sì questo senso di comunità e anche di gratitudine che abbiamo nei confronti dei riminelli perché ricordiamolo sempre l'ospedale di Rimini è quello che raccoglie tutti gli anni più donazioni nell'ambito dell'area vasta e grazie a questo noi abbiamo potuto rinnovare più di tutti il nostro parco tecnologico abbiamo dato l'avvio a tanti progetti non soltanto di tecnologia anche di innovazione in un ambito di umanizzazione penso ad esempio alla musicoterapia alla pet therapy che è partita in vari reparti e penso ai gruppi di lettura alle biblioteche le librerie che abbiamo sparse in ospedale e al contributo quotidiano di una trentina di associazioni di volontariato attive all'interno del nostro ospedale e quindi a teatro domenica ci saranno anche circa 100 volontari che sono per noi preziosissimi io credo che questa cosa che si riceva anche della propensione al fare cose nuove ad attivarsi significa che anche coloro che ci lavorano all'interno pur con tutte le fatiche che spesso raccontiamo in realtà abbiano questo desiderio di realizzare un luogo che sia veramente un luogo di cura un luogo di cura dove c'è l'umanità e c'è anche tanta professionalità diciamolo Francesca a questo punto direi non so se ci sono ancora posti ma noi se volete sul nostro sito c'è anche ecco allora c'è un link di riferimento se volete anche prenotarvi perché l'ideale sarebbe prenotarsi insomma anche per questa mattinata che partirà alle 10.30 e ci terrà compagnia fino circa alle 13 ci sarà anche i carotv a riprendere la mattinata quindi nel caso insomma poi chi non riuscisse perché i posti sono finiti eventualmente potrà recuperare qualche passaggio di questa giornata anche tramite noi direttrice grazie grazie a voi di cuore e buon compleanno all'ospedale inferme lo diciamo perché effettivamente insomma è un posto iconico nella nostra città grazie buona giornata e buon lavoro buona giornata anche a voi è una città nella città perché è veramente grande quando ti passi poi la sera illuminato fa veramente però guarda io penso veramente quello che dicevo prima c'è il rapporto ambivalente cosa fai domenica mattina vado a vedere questo momento bello sì sì sto lì vedo da vicino diciamo sei sul palco dai sei la solita apparezza molina accompagno questa bella iniziativa e lei che chiede di esserci allora adesso andiamo a parlare di una bella iniziativa invece tra l'altro forse c'è proprio anche un'intervista a Francesca Raggi in questo in questo pezzo per cui la vedete anche dopo averla sentita parlerà di altro non sono certa che sia stata inserita nel petto del telegiornale ma vediamo è questa iniziativa messa in atto da un'azienda di Sant'Arcangelo che si chiama la VCNC che alla fine di un percorso di formazione assumerà a tempo indeterminato due donne operate di carcinoma mammario a seguire questa iniziativa c'era il nostro Roberto che ci racconta tutto in questo servizio si chiama più unica di prima ed è un progetto che unisce pubblico e privato a favore delle donne VCNC e G-Grupp in collaborazione con l'associazione Crisali dell'Ausle Romagna si stanno occupando della formazione professionale di sette donne operate di carcinoma mammario due delle quali saranno assunte a tempo indeterminato dall'azienda Sant'Arcangiolese mentre le altre cinque entreranno nel circuito nazionale di G-Grupp per un'eventuale assunzione facilitata dalla formazione ricevuta la nostra azienda ha pensato sostanzialmente questo progetto pensando al territorio quindi nel concetto proprio di restituire al territorio ed è un progetto secondo me che in realtà va a valorizzare quello che oggi tante volte non ci focalizziamo a riflettere a pensare ovvero il cosiddetto talento mortificato io mi metto un attimo nei panni di chi sta diciamo così attraversando un momento come quello delle donne colpite da tumore al seno questo momento lo vedo anche con una fragilità estrema e quindi con una voglia di rivincita e di rinascita e questo per la prima fase permette appunto di combattere la malattia poi c'è una seconda fase quella di ricollocarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro questa iniziativa nasce quasi per caso nel senso che noi siamo state chiamate da questa azienda a fare una lezione di prevenzione la tipica lezione che facciamo già presso gli istituti superiori per i ragazzi e le ragazze di quinta poi appena terminata la lezione siamo state chiamate appunto dal signor Pieppoli da Leonardo che ci ha presentato questo progetto abituate ad ascoltare racconti in cui appunto la donna può perdere il lavoro a causa del tumore o anche essere demansionata la cosa ci ha lasciato davvero perplesse adesso siamo alle battute finali e ci sarà l'assunzione di queste due persone e questo sicuramente cambierà loro la vita la risposta è stata entusiastica da parte delle ragazze che hanno veramente avuto un atteggiamento prospettico di futuro di domani perché è importantissimo per una donna che ha attraversato la malattia pensare al domani è determinante l'importanza è straordinaria innanzitutto perché questi progetti creano un volano di fiducia sia nei confronti delle strutture sanitarie degli ospedali dei professionisti ma anche di fiducia che crea autostima e che crea benessere queste le voci raccolte proprio per questo bel progetto abbiamo visto effettivamente anche Francesca Raggi proprio intervistata in quest'ultimo stralcio del servizio però diciamo che effettivamente credo che aziende anche così attente a queste dimensioni possano essere utili possono essere anche modello poi per altre per altre aziende e adesso noi parliamo di sport perché saranno giornate importanti per Riccione che ospita le finali nazionali del campionato a squadre allieve gold di ginnastica artistica e quando si parla di ginnastica artistica non può che esserci lui Francesco Poesio che è il presidente della ginnastica Riccione buongiorno Francesco ben trovato buongiorno tu sei già in palestra ti sentiamo stai volteggiando dove sei? ti voglio far vedere i volteggi per fortuna siamo al telefono puoi dire quello che vuoi c'è nel senso che tu sei in piedi sulla trave infatti sto parlando in verticale allora più che in palestra siamo al palestetto dello sport di Riccione Play Hall Passimo Pironi e quindi niente stamattina le gare in campionato le finali sono iniziate alle ore 8 è iniziata la prima gara il primo turno gara e oggi sarà un giorno che iniziano le 8 le gare ma finiranno verso le 9 9 e un quarto questa sera che giornata è il primo giorno perché le categorie sono 4 c'è le gold 3A 3B gold 1 e gold 2 quindi nella giornata di oggi saranno le migliori 40 squadre Italia qualificate 3A e 3B quindi sono due categorie diverse domani saranno le migliori 40 e 40 anche se qualcosa in meno perché il livello è sempre più alto gold 1 e gold 2 e poi si qualificheranno di tutte e quattro diciamo le categorie le migliori 10 squadre per fare le finalissime domenica quindi saranno le migliori 10 3A 3B gold 1 e gold 2 Francesco penso società che arrivano da tutta Italia ragazzine e bambine di che età prevalentemente quando si parla di allieve così ci aiuti anche a capire perché sono passata lì davanti questa mattina attorno alle 7 3 quarti 8 e c'erano già delle bambine che stavano arrivando ma sono piccoline queste dove vanno ho pensato allora a parte che colgo l'occasione per invitare te Andrea qui domani o dopo domani sarebbe carino che ci vede a fare un saluto se volete le vedete da vicino e vi offriamo anche un bel caffè no vabbè a parte questo le bambine sono le allora questo è un campionato di alta specializzazione gold infatti diciamo che racchiudono le bambine più forti d'Italia nel mondo della ginnastica artistica femminile di federazione dagli 8 ai 12 anni quindi diciamo che più forti di queste qua più brave di queste qua non ce ne sono le società si sono qualificate a tutta Italia attraverso i campionati regionali quindi abbiamo squadre che vengono dalla Sicilia squadre che arrivano da Bozzano o dall'estremo Veneto piuttosto quindi dalla Sardegna da tutta Italia da tutta Italia ci sono le 40 squadre più forti d'Italia di ogni categoria quindi c'è un bellissimo parterre in questi giorni tra le famiglie gli allenatori i cittadini che sono anche invitati come ci dicevi a partecipare a vedere anche le gare di queste che sono le bambine chiamiamole ancora bambine dagli 8 ai 12 anni ancora ce lo possiamo permettere più forti d'Italia e che forse fra qualche anno vedremo calcare tappeti importanti a livello anche internazionale sì diciamo che comunque queste sono le cosiddette allieve che sono in futuro perché queste fanno già specializzazione per l'età che hanno quindi di queste bambine ovviamente sono in futuro il futuro anche della nazionale italiana perché tra queste qui sicuramente ci saranno delle bambine che comunque arriveranno in nazionale quindi dall'altro anche l'occasione che noi come società organizzatrice innanzitutto volevo ringraziare il comune di Riccione che ci ha dato la possibilità di utilizzare il palaspetto ma ringrazio anche la federazione gianattica d'Italia che ovviamente ci ha dato finita per la seconda volta ma questa è una gara che faremo che già ci è stata assegnata anche per l'anno prossimo a dicembre di nuovo ah ecco quindi diamo già un'anticipazione Riccione continua ad essere scelta quindi significa immagino Francesco e per la vostra accoglienza perché insomma come società ospitante sicuramente grazie al lavoro fatto avete mostrato una grande accoglienza nei confronti di tutti gli altri che arrivano poi sicuramente c'è un tema del recettivo molto importante dalle nostre parti perché insomma anche tutti coloro che arrivano trovano il posto per stare e poi forse Riccione perché si sta dimostrando effettivamente un punto di riferimento per la ginnastica sì guarda noi tra l'altro diciamo che io sto colgo l'occasione anche per ringraziare chi ha curato la logistica per le famiglie per squadre che comunque c'è stato un binomio di lavoro tra Cost Hotel e Promotel quindi comunque hanno lavorato molto molto bene in questo dando dei servizi importanti alle famiglie e chiaramente poi ringrazio tutto il mio staff perché comunque voglio dire è da due mesi barra tre mesi che si organizza questo tipo di campionato e soprattutto da mercoledì ci siamo rintanati nel palassetto dalle sette del mattino alle nove e dieci di sera che comunque c'era da montare un doppio campo gara e tutti i particolari che ci sono nonostante quello che si lavora così però colgo anche l'occasione Simona se me lo permetti di fare un in bocca al lupo anche alla ginnastica di Scione Academy che comunque questa sera nella Gold 3B avrà la sua squadra che gareggerà in finale e di cui ricordo che le bambine nostre ovviamente della società regionese sono le attuali campionette regionali e quindi avendo vinto il campionato regionale hanno avuto l'accesso addirittura diretto a questa finale quindi faccio in bocca al lupo anche alle nostre atlete ci mancherebbe altro anzi noi facciamo il tifo per loro dai diciamo un po' di campanilismo in questi casi ci vuole va bene questa è la competizione sana che deve essere nello sport perché a differenza di tanti purtroppo sport dove magari c'è un po' più un'aggressività invece devo dire che questo è uno sport dove comunque c'è un fair play veramente invidiabile quindi le competizioni sane sono per questo noi abbiamo organizzato la gara innanzitutto per rendere felici le famiglie le bambine perché comunque fanno un percorso che non è facile e vedo che le bambine qui che le ho presenti in questo momento parliamo perché sono in campo gara sono molto contento e soprattutto per onorare la città di Riccione ma io direi a questo punto anche la Romagna e l'Emilia Romagna perché comunque è sempre un onore a mio avviso portare degli eventi come abbiamo portato la nazionale per anni un po' per tutto perché comunque da lustro oltre che alla società ma da lustro alla città alla provincia di Rimini e all'Emilia Romagna diciamo bello Francesco che dire noi ti lasciamo a questi tre giorni così intensi anche se come ci dicevi il lavoro è già partito da tempo per voi per far trovare tutto pronto al meglio alle bambine a tutti gli staff i team che arriveranno in queste giornate grazie invitiamo i riccianesi e non solo a venire a vedere queste bellissime prestazioni queste bellissime gare e noi ti auguriamo un buon lavoro grazie Simone grazie Andrea sempre per la disponibilità e soprattutto l'interesse per lo sport in generale e anche per la ginnastica Francesco grazie loro non l'avete visto perché era il telefono ma lui è stato tutto il tempo sulla trave mentre ha fatto questa intervista noi abbiamo delle fuori onna lui era in equilibrio adesso va alle parallele non lo so ciao Francesco dove vai adesso se faccio questo se faccio questo penso che mi vedete a strisciare la notizia quindi è meglio di no mi raccomando fatti riprendere nel caso che serve queste sono quelle notizie che vogliono dire sicuramente faccio più visualizzazioni per quello ma no ma non è vero Francesco grazie ciao buona giornata ciao grazie ancora a voi buon lavoro grazie lo so che tu vuoi invece parlare di altre vicende ma io resterei un attimo sullo sport visto che di sport stavamo parlando e oggi abbiamo deciso di andare per compartimenti stagni quindi ti lascio l'ultima parte di trasmissione per le tue vicende di cui vuoi parlare è una cosa brutta che dici per le tue vicende per l'editoriale finale del direttore come in tutte le trasmissioni che si rispettino c'è il momento finale dove il direttore no non sono capace lo sai non sono per queste cose comunque adesso parliamo di basket perché domani c'è l'esordio in campionato a Pistoia e ieri invece c'è stata la presentazione della stagione di Riviera Basket la squadra di basket in carrozzina di Rimini ha seguito per noi la presentazione Roberto Bonfantini sentiamo Riviera Basket Rimini anche quest'anno con main sponsor NTS Informatica è pronto all'esordio nel campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina 2024-2025 sabato i ragazzi del presidente Martinini saranno di scena Pistoia l'esordio casalingo è invece in calendario domenica 8 dicembre alle 15 alla palestra Karim avversario la Icaro Brescia questa mattina la presentazione della stagione al ristorante Lo Zodiaco le ambizioni sono sempre quelle di fare molto bene perché la squadra è sempre stata costruita per vincere e bisogna che le vinciamo tutte per fare un bel lavoro e le ambizioni sono da fare i playoff le squadre da battere dovrebbe essere sulla carta Parma e Milano ci saremo noi che le faremo in passiere il roster è integrato quest'anno con i nostri due acquisti che abbiamo già parlato Kevin Giustino Lorenzo Perlegrini poi stiamo crescendo come squadra perché ci aiutano a poter crescere perché essendo più bravi ma non più bravi a livello solo cestistico ma anche a livello umano per stare in un gruppo non è semplice soprattutto la cosa più bella più bella che il nostro super allenatore Angelo Loperfido l'ho visto bello carico quest'anno dunque speriamo che facciamo tanto 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 la differenza sia lui che come giocatore ma come allenatore che ci possa dare con lo slancio in più per portare a casa un ottimo risultato quest'anno è una squadra che noi siamo tanto felici che porti in giro il nome della nostra città come amministrazione sposiamo in pieno i valori che questo progetto porta con sé sono valori che sono veramente all'essenza della base della disciplina sportiva e dello sport in generale c'è inclusione c'è aggregazione c'è accessibilità c'è rispetto sul campo siamo tutti uguali e c'è anche competizione come dicevamo un calendario che inizia a Pistoia la prima in casa sarà l'8 dicembre è l'8 dicembre alla palestra Karim per riempire d'amore questa squadra per riempire d'amore questo progetto per la nostra città e per Riviera Basket queste sono le voci raccolte ieri dal nostro Roberto per questo bel campionato che in partenza abbiamo ancora qualche minuto oggi niente meteo purtroppo non so se vogliamo andare a vedere noi sull'arpa perché il nostro Roberto è indisposto gli mandiamo un saluto grandissimo no io in realtà volevo parlare di una brutta situazione che è quella vissuta dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo perché questa mattina lo riporta nei giornali c'è stato insomma un episodio grave minacce sputi insulti nella serie di Fratelli d'Italia siamo nel cuore di Riccione perché siamo in Viale Ceccarini lei dice proprio raccontando quanto è successo il clima d'odio contro il nostro partito ha raggiunto livelli davvero estremi non è possibile continuare a fare politica in questo modo non nascondo di avere paura anche solamente nel recarmi al lavoro questo è il suo sfogo appunto lo sfogo della parlamentare Beatriz Colombo una disavventura che sfocerà chiaramente in denuncia perché nel tardo pomeriggio di ieri è stata appunto insultata 17 credo era già buio però insomma effettivamente ancora è pomeriggio pieno lei dice mi trovavo nell'ufficio insieme a mio padre Adriano Colombo insieme a Riccardo Amati stavamo lavorando ad alcune iniziative quando ad un certo punto nella sede ha fatto il suo ingresso una coppia un uomo e una donna entrambi sui 35 anni italiani abbiamo subito intuito che avevano intenzioni ostili per il modo con cui si sono rivolti contro di noi hanno cominciato ad urlarci contro degli insulti fascisti continuavano a dire e poi insomma lei dice anche Putin mi sono spaventata ecco sono cose che insomma qui stiamo parlando di persone che lavorano persone che portano avanti un impegno politico anche attivo al di là insomma della propria anche idea politica però siamo nel pieno rispetto credo del lavoro sono cose che non hanno ragione di essere ma non c'è motivo non c'è motivo purtroppo vengono fomentate da un periodo in cui il clima si è eccessivamente inasperito senza andare a puntare il dito su su qualcuno in particolare ma in generale ma rispetto delle persone del loro lavoro al di là di quello che uno pensa magari anche con una posizione politica diversa la democrazia dice questo che siamo insomma nella libertà ognuno di pensare e in questo momento anche di agire ci sono delle forze politiche che hanno un ruolo in questo momento e vanno rispettate anche perché chi si comporta così che tipo di valore pensa di portare avanti infatti infatti me lo chiedo anch'io comunque pare che in quel momento stesse transitando in zona una pattuglia dei carabinieri che è stata intercettata dalla papà di Beatriz Colombo i militari sono scesi hanno chiesto i documenti a queste persone insomma poi tutto è ritornato nei ranghi però veramente un brutto episodio che dice proprio invece che siamo nella difficoltà di creare una democrazia di destra sinistra centro e via dicendo di andare al momento meteo che andrò io a leggere sulle pagine di AirPai vuoi raccontarci di cosa parlerai stasera allora prima di dire parlo dell'appuntamento televisivo perché so che poi tu hai dei momenti in cui trovi in più posti contemporaneamente e non vogliamo sapere come fai allora questa sera i giorni della chiesa tratteranno di un bel tema che è quello del ci sono più cose belle all'interno un appuntamento in studio con due ospiti che sono rappresentanti di operazione colomba e quindi parleremo dei corpi civili di pace un po' riprendendo rimanendo quasi in scia al documentario che abbiamo fatto vedere ieri sera la pace non è il suo nome che ha raccontato proprio la storia del centro dei diritti umani di Padova che ha anche un bel legame con la comunità Papa Giovanni XXIII e Operazione Colomba e vedremo un po' come si sta agendo anche in queste situazioni di conflitto così grave che ci sono in tutto il mondo e poi una bellissima intervista realizzata dal nostro Loris Menghi per la rubrica Talenti a Pietro Bartolo il medico che ha salvato migliaia di persone che stavano rischiando di affogare nel Mediterraneo ma che al contempo ha dovuto anche raccogliere tante vittime e devo dire un racconto ho visto in anteprima questa intervista che è stata realizzata tra l'altro quando Bartolo è venuto qui ospite della cooperativa Centofiori veramente che ti tocca non può non toccarci questa storia di chi è stato lì e ha visto e ha visto con gli occhi ha toccato con le mani anche i corpi di tanti bimbi purtroppo e non solo bambini quindi questa sera l'appuntamento di Gioni della Chiesa contemporaneamente mi verrebbe da invitarvi per cui eventualmente magari i Gioni della Chiesa lo ricoperate sui caroplei a questo incontro che c'è al Teatro Tiberio di Rimini Abbi Cura di Me un convegno sulla tutela dei più piccoli che è organizzato dal Servizio Tutela Minori della Diocesi di Rimini ma che è stato pensato insieme anche a tante altre realtà del territorio l'ASL il Comune i Carabinieri una polisportiva il servizio sanitario una cooperativa che lavora con i più piccoli e le fasce anche più fragili proprio per dare visibilità a tutto il bene sommerso e spesso non noto il bene fatto di gesti parole esperienze che creano luoghi educativi sicuri per i nostri ragazzi questo è l'obiettivo per cui se volete saperne di più questa sera 20.45 Teatro Tiberio di Rimini e allora passiamo a dare uno sguardo al tempo però la giornata di domani grazie al sito di Arpae che ci dice che il cielo sarà sereno o parzialmente nuvoloso con la crea densamente a ridosso dei rilievi romagnoli probabili foschie dense o nebbia sulle zone di pianura emiliane a ridosso del Po in diradamento però durante la mattina le minime in calo per quanto riguarda le temperature specie sulle pianure interne 1-3 gradi stabili invece sulla costa intorno agli 8 gradi quindi insomma neanche particolarmente freddo le massime in lieve flessione i valori vanno dagli 8 agli 11 gradi questo per quanto riguarda la giornata di sabato tu vuoi sapere anche di domenica visto che hai tanti impegni quindi devi vedere che tempo c'è e io ti dico che domenica il cielo in prevalenza sereno con foschie e nebbia nel primo mattino sempre sulle pianure che poi andrà diradandosi le minime tra i 3 e i 5 gradi sulla costa 0-1 grado sulle zone di pianura emiliane quindi inizia a fare freschino localmente inferiori in altre aree quelle più montane insomma e appenniniche massima inflessione tra 7-8 gradi pianura 10-11 gradi nella fascia costiera insomma abbiamo provato pur in sintesi a fare il lavoro di Roberto Nanni non lo stesso modo però insomma ci faceva piacere anche vedere un po' che cosa succederà nel fine settimana noi siamo giunte al termine di questa settimana non siamo più on air fino a lunedì proprio così invece ci ritroviamo con tempo reale lunedì mattina alle 9.02 circa anche se stiamo un po' perdendo il nostro obiettivo dei veri motivi dietro a questo ritardo e se qualcuno ce lo chiederà noi gli diremo il perché esatto infatti solo a chi lo chiede solo se ci pagano lo diciamo allora buona giornata a tutti buon fine settimana e adesso faccio cose vedo gente tempo reale l'informazione indiretta della provincia di Rima Conosci Locatop? Portiamo in alto persone e materiali specializzati nel noleggio senza operatori con mezzi all'avanguardia